ciao sono gabri costa vi faccio vedere il livello bonus di tournament fighters del super nintendo sapete che dovete fare in questo livello bonus distruggere tutte le casse forti per liberare i soldi prima dello scadere del tempo avete solo 30 secondi ecco fatto abbiamo finito mettete un mi piace iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto questo era il livello bonus ve l'ho fatto vedere